Un sistema affrontale collegato ad una vasta area di bassa pressione sul vicino atlantico interessa il nord e parzialmente anche la Toscana. Un secondo impulso è previsto nelle prossime ore. In Toscana giovedì 16 maggio peggioramento con rovescio brevi temporali più probabili sulle zone settentrionali, schiarite su quelle meridionali, venti deboli moderati dai quadranti meridionali, mari tra poco mossi e mossi, temperatura in calo anche sensibile sulle zone settentrionali. Sul territorio provinciale da poco nuvoloso a molto nuvoloso coperto con piogge nel pomeriggio, a Lucche sulla Piana temperatura minima 12 massima 23 gradi, a Castelnuovo Garfagnane zone montane minima 10 massima 20, a Via Regge sul litorale minima 13 massima 22 gradi, venerdì nuvoloso in mattinata ma con ampie schiarite dal pomeriggio.